Ieri notte il personale della sezione volanti della questura di Sassere ha tratto in arresto un quarantenne con precedenti di polizia per furto aggravato ed evasione. Gli operatori sono intervenuti in zona San Giuseppe dove è stata segnalata una persona che stava rovistando all'interno di alcune autovetture. Giunti sul posto gli agenti sono riusciti ad individuare l'uomo che alla vista dei poliziotti ha provato a far perdere le proprie tracce allontanandosi delle autovetture senza però riuscirci. Il 43enne è stato trovato in possesso di diversi oggetti tra cui una tenaglia in metallo, un punteruolo in ferro ed una pinza multiuso con i quali ha forzato e danneggiato diverse autovetture. Inoltre all'interno di una sacca sono stati recuperati diversi oggetti precedentemente sottratti dalle automobili. Dopo le formalità di rito l'uomo che già nella seconda metà di ottobre è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della questura e a seguito dell'udienza di convalida è stato accompagnato presso il carcere di sassari bancali così come è disposto dall'autorità giudiziaria. Amici di Tlg ben ritrovati un'altra puntata della nostra rubrica il salotto di Tlg. Allora oggi parliamo di PULL il famoso piano di utilizzo dei litorali ed è sono con noi anzi non è con noi sono con noi due consiglieri comunali alla mia destra grazia di guardo buongiorno buongiorno presidente della commissione edilizia urbanistica urbanistica qui in comune a sassari e non poteva mancare Manuel Alivesi. Buongiorno Manuel. Buongiorno Graziano. Devo dire bentornato benvenuta a Grazia e bentornato a te. Grazie Graziano per l'invito intanto un saluto a tutti i telespettatori di Tlg. Piano dei litorali da poco si è discusso in consiglio comunale con delle belle novità. Allora il piano di utilizzo dei litorali è una pratica che è stata portata all'attenzione del consiglio ma che dietro di sé ha un lavoro enorme intanto degli assessori che sono l'assessore Corda e l'assessore Luglie e degli uffici soprattutto che hanno compiuto un lavoro diciamo importantissimo soprattutto per quanto riguarda le regole che influiranno su un futuro economico oltre che ambientale della città perché il piano di utilizzo dei litorali darà quegli strumenti che tutta la città aspetta da tempo e che andranno a influire sull'offerta turistica integrata sulla espansione della stagionalità turistica si chiama la famosa destagionalizzazione per sfruttare al meglio le risorse territoriali che Sassari ha nelle sue coste. Il turismo costiero è un importantissimo settore che ha bisogno di regole proprio per fornire quegli strumenti che andranno a modificare anche un assetto oltre che ambientale soprattutto economico. Parliamo di litorali ovviamente distinguiamo bene le cose perché non vorrei che qualcuno confondesse l'intero litorale di Platamona dove il comune di Sassari ha ben poco a che vedere in Platamona c'è un breve tratto ma poi abbiamo tutta la parte di Portoferro abbiamo la parte dell'Argentiera abbiamo la parte di Fiume Santo insomma sono diversi diversi ambienti non collegati tra loro molto diversi tra loro che avevano necessità appunto di queste regole. Quindi questa approvazione c'è stata col beneplacito di? Beh della maggioranza. Ecco però che mi è giunta notizia appunto che non tutti hanno preso in considerazione la validità di questo provvedimento e di questa iniziativa. Beh infatti questa reazione ci ha lasciato un po' diciamo senza parole anche perché l'iter in commissione e soprattutto quello che rimproverano i colleghi di minoranza è cominciato il 29 del mese di settembre e si è concluso 27 giorni dopo. Sono state tre sedute dove abbiamo avuto la disponibilità sia dei due assessori, quello uscente, il nuovo assessore cioè la rispettivamente la dottoressa Accorda e la dottoressa Luglier è una partecipazione degli uffici nella persona dell'ingegner Pisoni che hanno illustrato il piano sono stati disponibili a qualsiasi dubbio potesse provenire giustamente lecito in fase di discussione poi io da presidente ho chiesto a più riprese degli interventi in fase di dibattito sulle proposte che potevano venire dai banchi dei commissari ma non avendo risposta ho portato in votazione la pratica. Questo perché? Perché secondo me è necessario che la città abbia al più presto uno strumento cioè non si può procrastinare su discussioni che non portano dei suggerimenti o delle proposte costruttive se non dubbi. I dubbi sono stati secondo me ampiamente dibattuti sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico quando la presidente chiede se ci sono ulteriori interventi e nessuno interviene io chiudo la seduta e la porto in votazione. Per questo non capisco la reazione è il fatto di pronunciare una parola frettolosamente riferito a 27 giorni di gestazione perché come come ho già ribadito la prima è avvenuta il 29 del mese di settembre. 15 giorni dopo il 14 di ottobre visto che vista la complessità dell'argomento ho lasciato il tempo ai commissari di poter visionare tutti gli elaborati eventualmente di formulare proposte. Il 27 del mese di ottobre abbiamo concluso la discussione. Noi naturalmente siamo qua a disposizione anche di chi volesse discutere sulle dichiarazioni fatte adesso dalla signora di guardo. Se qualcuno non fosse d'accordo su quanto la signora di guardo sostiene noi siamo qua per dar voce a tutti. Ma c'è anche diciamo che questa ordine del giorno ha avuto anche un'implementazione da parte di Manuel Alivesi. Infatti oggi tu sei qua per questo perché hai aggiunto qualcosa a questa proposta? Innanzitutto io condivido totalmente non solo la descrizione degli eventi fatta dalla Presidente di Guardo ma soprattutto anche per stigmatizzare un comportamento della minoranza che noi trovi che ci ha sorpreso tutti tantissimo ma soprattutto l'abbiamo trovato incomprensibile. Mi domando com'è che la minoranza farà a giustificare questo comportamento con i sassaresi che poi guardano e che attendono questo piano dell'utilizzo dei litorali da ormai tantissimo tempo. Ha ben detto la Presidente di Guardo quando ha descritto l'utilità e l'importanza di questo provvedimento che ha seguito l'ordinario iter amministrativo non solo di predisposizione da parte della struttura ma soprattutto il percorso democratico in commissione e poi in Consiglio Comunale. A questa pratica poi in accordo con i consiglieri e soprattutto con la Giunta e il Sindaco ho proposto un ordine del giorno in calce alla discussione che si è poi tenuta lo scorso 28 ottobre in Consiglio Comunale dove non faccio altro che proporre ciò che moltissimi sassaresi chiedono ovvero una implementazione di quelli che sono i servizi costieri ovvero il piano di utilizzo, il piano urbanistico comunale e il pool prevedono tutta una serie di aree di servizi disseminate nell'area, aree parcheggi e aree di servizi disseminate su tutto il terimetro costiero e si chiede semplicemente un atto, si è chiesto con l'ordine del giorno che ho presentato, una possibilità attraverso un atto di indirizzo che è stato approvato all'unanimità dei presenti in Consiglio Comunale quindi con la totale assenza delle minoranze diciamo chiamiamole così dove si chiede la possibilità di dare un atto di indirizzo a favore del cosiddetto turismo sostenibile con la possibilità di individuare attraverso un'analisi profonda del piano per l'utilizzo dei litorali dei luoghi in cui installare delle strutture temporanee questo proprio per favorire quel turismo etico e sostenibile e ambientale di cui abbiamo parlato in Consiglio Comunale a cui poco fa si riferiva anche la Presidente di Guardo. Tutto questo non è stato accettato dalle minoranze che anziché confrontarsi e esprimere qual è la loro idea di contrarietà a questo ordine del giorno hanno invece fatto un gesto inqualificabile che è quello di abbandonare la sala del Consiglio Comunale cioè quel luogo dove invece dovrebbe avvenire quello scambio di idee e di quel confronto democratico sui temi in questione. Segnaliamo che poi nessuna proposta da parte delle minoranze è giunta né in un senso né nell'altro. Una piccola nota così di colore che l'unica osservazione negativa all'ordine del giorno che ho presentato e che lo voglio sottolineare ancora una volta è stato approvato all'unanimità dei presenti da parte della maggioranza del Consiglio Comunale l'unica nota riguardava la correzione di una data che insomma è un fatto che fa della data di redazione dell'ordine del giorno che si riferiva evidentemente a un refuso cioè anziché la data della seduta il 28 di ottobre riportava a quella del 26 ottobre. Quindi è un dato curioso curioso diciamo così perché ecco se le osservazioni all'ordine del giorno si sono ridotte e ristrette a questo ecco diciamo che non fa altro che aggiungere ulteriore sorpresa e meraviglia insomma a quella ad un atteggiamento della minoranza che diciamo evidentemente nulla ha da dire o da aggiungere al lavoro al grandissimo lavoro che è stato fatto dall'amministrazione da questa amministrazione per dare ai sasseresi e alla nostra città e a tutto il territorio uno strumento fondamentale per dare sfogo poi a quel turismo e quelle implementazioni dell'offerta turistica di cui parlava la presidente di guardo in apertura. Grazie io spero di riaverti qua per eventualmente continui a parlare di urbanistica perché la presidenza di quella commissione è un ruolo abbastanza importante e determinante per quanto riguarda la città. Sarò ben felice finché sarò in carica ovviamente perché a breve ci sarà un'alternanza però quello che volevo sottolineare Graziano è che di urbanistica e soprattutto di questa pratica se ne parlerà anche perché siamo in fase preliminare ciò significa che noi stiamo iniziando un iter che poi avrà 60 giorni nei quali dovranno pervenire le osservazioni dei portatori di interesse quindi quello è un atto democratico in in cui il cittadino potrà dire la sua a dare suggerimenti anche all'implementazione dello strumento del piano di utilizzo dei litorali quindi questo è un processo lungo perché l'urbanistica ha questi tempi per legge e infatti dovevamo arrivare alla votazione di questa pratica con urgenza visto visti tempi lunghi che ci saranno poi per la lezione definitiva va bene grazie come ho detto prima noi saremo qua anche a disposizione di chi volesse contro replicare alle dichiarazioni sia della signora di guardo che di manuela rivesi e quindi restiamo a vostra disposizione nel frattempo vi ringrazio grazie a noi a voi naturalmente mi vedrete sempre con questo telefonino in mano durante le interviste ma ormai l'ho già detto prima sto per diventare anzi forse lo sono già diventato logorroico però vi invito a prendere già i debiti provvedimenti in quanto il 22 di novembre come abbiamo già abbondantemente detto in precedenza il nostro canale di telegir canale 15 si spegnerà per aprirci il mondo intero perché da quel giorno lì saremo disponibili su internet quindi l'invito che faccio è iniziate già a vedere la nostra televisione direttamente o dal telefonino o dai vostri televisori perché la cosa più importante che potete continuare a vedere tranquillamente a casa sintonizzando i vostri televisori naturalmente attraverso la linea internet su www.telegi.tv cliccate aprite lo streaming salvate velo tra i preferiti e continuerete a vederci a casa e a godere spero di tutte le nostre trasmissioni grazie ancora agli ospiti a voi buon proseguimento Alghero recita così la dura interrogazione dei consiglieri comunali del centro-sinistra diretta al sindaco Conucci sul caos all'anagrafe comunale l'amministrazione comunale ha inaugurato un nuovo passatempo per gli algheresi tentare la fortuna semplicemente per accaparrarsi i numeri per rinnovare il proprio documento di identità funziona infatti che chi deve rinnovare il documento deve recarsi in prima mattina al di fuori dell'ufficio anagrafe e sperare di essere tra i fortunati ad accaparrarsi la prenotazione utile per usufruire del servizio nella stessa giornata se ormai frequente vedere persone in fila ben prima dell'orario di apertura dell'ufficio diventa praticamente impossibile rinnovare la carta di identità per chi lavora magari anche fuori sede e per assentarsi dal proprio posto di lavoro deve programmare un permesso o richiedere un giorno di ferie senza avere la certezza di poter aver l'agognato numero sarebbe quanto mai opportuno rafforzare il servizio disponendo l'immediato trasferimento di personale in numero adeguato e riattivare un minimo di servizio di prenotazione al fine di poter consentire a tutti anche in relazione alle urgenze e alle date di scadenza di poter rinnovare il documento di identità oggi invece il sindaco Conoci continua a dormire, lascia il servizio anagrafe senza nessun assessore di riferimento non avendo ancora sostituito l'ex assessore di Gangi e confida nella professionalità dei pochi operatori del servizio che pur facendo tutta la loro parte sono oggettivamente pochi e politicamente abbandonati a se stessi per tramite di un'interrogazione consigliare cerchiamo di sollecitare l'amministrazione ad intervenire nell'immediatezza concludono i consiglieri del centro-sinistra L'assessorato all'ambiente del comune di Oristano ha raccolto l'appello che arriva dai cittadini residenti nelle case sparse circa 500 utenze già dalle prossime settimane infatti il calendario muterà per la raccolta del secco la frequenza di ritiro sarà di una volta alla settimana la richiesta sarà arrivata con insistenza nella prima riunione con i cittadini organizzata a Sili durante l'incontro i residenti nell'agro avevano chiesto all'assessore all'ambiente Gianfranco Licchieri di aumentare la frequenza di ritiro della frazione del secco che in un primo momento era stata prevista una volta al mese ci siamo confrontati immediatamente col dirigente e col direttore per l'esecuzione del contratto abbiamo ritenuto di dover raccogliere la sollecitazione dei nostri concittadini precisa l'assessore Licchieri ci serve il tempo minimo per rimodulare il calendario e mandarlo in stampa poi partiremo col nuovo servizio di raccolta anche nelle case sparse in queste zone il servizio si svolgerà con queste cadenze umido due volte alla settimana secco una volta alla settimana plastica e lattine due volte ogni 14 giorni vetro e carta una volta ogni 28 giorni quando assegneremo i calendari aggiunge sapere il responsabile della ditta Formula Ambiente Fabio Fresu verranno ritirati i carrellati da 120 litri e distribuiti i mastelli da 40 litri in funzione del passaggio da una volta al mese a una volta alla settimana questa settimana intanto si terrà il secondo degli incontri programmati dal comune per verificare insieme ai cittadini eventuali criticità del nuovo servizio gli addetti di Formula Ambiente insieme ad un rappresentante dell'amministrazione saranno a Massana giovedì 4 novembre alle ore 18.30 nella sede dell'ex circoscrizione come avvenuto a Sili i cittadini sono invitati a partecipare per segnalare problematiche o chiedere informazioni sulle nuove modalità del servizio sulla raccolta differenziata musica 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 La pianta del mango è originaria dell'India, appartiene alla famiglia delle anacardiacee e sembra sia stata coltivata da 4000 anni. La pianta può raggiungere 40 metri di altezza, la sua corteccia è ricca di resina, il suo legno è ruvido, duro e assume un colore quasi rosastro. Le sue foglie possono avere misure diverse dai colori che vanno dal rosa all'arancio al verde. I fiori sono raccolti in pannocchie di color bianco tendente al rosa con un profumo simile a quello del mughetto, ma non tutti producono i frutti. Il frutto, il mango, ha bisogno dai 3 ai 6 mesi per maturare e assumere la forma ovale allungata con un peso fino a un chilogrammo, anche se i frutti di mango in commercio pesano dai 300 ai 500 grammi e sono lunghi circa 15 centimetri. La buccia del mango può essere rossa, gialla, verde o di una tonalità di questi colori. La sua polpa è di color giallo tendente all'arancio, compatta, ricca di succo e molto profumata. Il suo nocciolo è molto grande, piatto e occupa buona parte del frutto. Il sapore del mango ricorda un po' quello della pesca, dell'ananas e dell'arancia, misto a quello dei pinori. Nel frutto maturo il profumo è resinoso. Il mango contiene una buona quantità di calcio, fosforo, magnesio, ferro e potassio, vitamina A, vitamina del gruppo B, vitamina C, E, K e un antiossidante prezioso per la salute del colon e del pancreas con una proprietà antitumorale. Ha molte proprietà nutritive, è ricco di acqua, ideale per combattere la ritenzione idrica, ma anche la stitichezza. La vitamina A protegge le mucose dell'apparato respiratorio, mentre la vitamina C aiuta le cellule a resistere agli attacchi batterici e protegge dall'azione dannosa e dei radicali liberi, prevenendo così l'invecchiamento, combatte l'anemia ed è fondamentale per l'elasticità della pelle. Il mango è anche un frutto energizzante e antistress, grazie alla presenza di minerali come potassio e magnesio, che aiutano anche a ridurre la pressione arteriosa, indicato per le persone che soffrono di ipertensione o che hanno il colesterolo alto. Il mango si consuma soprattutto crudo o centrifugato o in succo di frutta, ma può essere utilizzato anche per la preparazione di dolci e gelati. Dopo averlo lavato, sbucciato e diviso in due, si elimina il seme e dentro il suo involucro si può tagliarlo a fettine o a pezzetti e consumarlo crudo o cotto. In cosmesi il mango può essere utilizzato contro l'acne, applicando la polpa di un mango maturo sulla pelle, lasciandola agire per 10 minuti e sciacquando poi il viso con acqua tiepida. Il burro di mango rende immorbida e velutata la pelle secca. Sui capelli invece può essere utilizzato come impacco per combattere secchezza e doppie punte. Continua il percorso netto dalla Raimond Handball Sassari nella Serie A Beretta. Nell'incontro valevole per la settima giornata di campionato, Mbaie e compagni battono Trieste al Palacchiarbola, infilando la quinta vittoria in altre tante gare disputate. 29 a 25 il risultato finale, imposto ad un avversario che nella scorsa stagione aveva portato via tre dei quattro punti a disposizione in rosso-blu. Con l'ultima affermazione, i sardi rimangono l'unica squadra a punteggio pieno. Kherin, Vroljak e De Logu firmano la partenza sprint della Raimond 3 a 0 dopo 7 minuti. Trieste accorcia, arrivando fino almeno uno in un paio d'occasioni senza trovare mai l'aggancio. I sassaresi ritrovano tre gol di vantaggio al ventitresimo. La forbice tra le due squadre oscilla tra le due e le tre reti, fino alla sirena che manda i frugliani e sardi a riposo sul 13 a 10 per gli ospiti, grazie al gol realizzato da Bronzo a 18 secondi dal termine della prima frazione. Dopo un avvio di ripresa in cui nessuna delle contendenti manda referto, break significativi, 13 a 14 al trentatresimo. Ecco la fiammata che orienta ulteriormente la partita. Il 6 a 1 in cui spicca uno scatenato bronzo. Al fine, autore di 10 gol, porta i sardi al massimo vantaggio, 14 a 20 al quarantacinquesimo. Il contro break di Trieste non scalfisce la Raimond che, con altre tre reti del suo numero 23, torna sul più 6 e gestisce il finale di una partita che termina 29 a 25. La seconda giornata del campionato di terza categoria dei gironi EF ha fatto vivere ad atleti e dirigenti a timi di bel calcio. Nel girone E il derby cittadino fra centro storico Sassari e Willier ha garantito un match entusiasmante e incerto sino alla fine. La vittoria per 2 a 1 da parte della neonata squadra sassarese dice tutto su un'incertezza della gara. Il deportivo Badde Longa con un sonoro 4 a 0 acquistato tra le mura amiche dell'impianto di Rizzedo ha battuto il malcapitato Nuguedu San Nicolò, sorte uguale per lo zierese Junior che nel comunale di Villanova ha perso per 4 a 0 per mano del Minerva. E' entusiasmante la gara fra Sportinguri e Tiesina. Infatti il pirotecnico 4 a 2 descrive al meglio come le squadre si siano date battaglia all'arma bianca. Infine, rinviata la gara tra Alghero 1945 e Tutubella. Nel girone F la Fulgor Sassari tra le mura amiche è stata surclassata con un tennistico 6 a 1 da parte del Codaruina Valledoria. Il Lipunti conferma il primato imponendosi nel comunale di Trinità d'Agulto 1 a 0 nei confronti dello Sporting Paduledda. La Ciaccia nel comunale di Valledoria ha vinto 2 a 1 contro il Santa Lucia Senori. Mentre altamente entusiasmante è stato il confronto tra i portotorresi della Ale Castiglia e l'Isola Rossa laddove i torritani si sono imposti per 3 a 2. Infine, nel comunale di Chiaramonti la squadra locale ha battuto l'Andrea Doria a Sedini con un punteggio all'inglese di 2 a 0. Ora l'appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 con nuove ed entusiasmanti gare. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!